Sì, andate pure di là a vedere. Adesso finito. Sì, la coda che spunta, vedi? E la coda che spunta lì, vedi? Sì, sì, sì. E vado a vedere il signore qua. Allora, guarda che si incassa il granchio burro. Buongiorno. È maledetto il granchio burro, eh? Questo? Sì, sì. Ha fatto la mucca. Ah, la sua mucca. È come si chiama? È una moleca. È una moleca e poi si è spilato è diventata più grande. Questa è una femmina. Adesso, con gli ultimi studi, ogni 100 grammi di femmina è un milione di granchi. Sì, sì. Quelle vongole là non le abbiamo messe per fare bellezza ma perché le ha aperte. Sì, sì, immagino. Le mangia? Sì, sì. È una moleca. È buona da mangiare adesso. Sì, sì. Ed è anche perché nuotano. È esatto, ancora più pericolosi. Sì, è ancora più pericolosi. Sì, è ancora più pericolosi. Ancora più pericolosi. Eh, vabbè. La prima parte adesso non è... La natura. Un uomo. Un uomo. Un uomo. Un uomo. Cosa collega dal Golfo del Messico? Non vengono voluti. Un zufficio, non no. Bagiandoli? Mangiandoli. O mandavoli da dove sono venuti. e poi ci sono